buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 12 gennaio 2022 il sole sorge questa mattina alle 7 e 40 e tramonta alle 16 e 53 vediamo subito il santo del giorno per festeggiare insieme chi san bernardo da corleone san bernardo da corleone corleone non è soltanto una città critica un centro critico della sicilia per quanto riguarda l'ordine pubblico ma anche un centro dove nascono dei santi ebbene san bernardo da corleone in realtà si chiamava filippo latini visse tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo era un calzolaio figlio di una famiglia di calzolai era anche un grande spadaccino anzi il migliore di tutta la sicilia un giorno in un duello ferì il suo avversario pentitosi si rifugiò in una chiesa e lì ebbe la sua illuminazione si fece frate capucino ed allora divenne fra bernardo il frate buono fu un frate santo che aiutò il suo popolo in modo particolare durante il terremoto di palerbo e si distinse per quanto riguarda carità e umiltà dunque un santo da imitare e veniamo ora le notizie del giorno a partire dal corriere adriatico questa mattina apriamo la pagina di fano e vediamo che si parla di sanità abbiamo tutta una serie di controlli che sono stati fatti anche dalla polizia locale controlli covid una sanzione al giorno dipendente al lavoro senza green pass è stato scoperto un ultimo mese intenso per la polizia locale di fano che ha compiuto verifiche anche sull'uso delle mascherine in centro quasi una sanzione al giorno per mancato rispetto delle misure anti covid in questa fase di recrudescenza della pandemia i controlli riguardano un'attività economica gli ultimi due verbali la polizia locale di fano ha aggiornato i dati all'otto gennaio ha trovato un dipendente al lavoro senza il green pass la certificazione verde e anche il titolare ne ha fatto le spese per aver omesso il controllo e vediamo qui in questa tabella riassunti appunto riassunta appunto l'attività dei vigili urbani sono stati controlli sono stati fatti controlli su 221 attività e 1079 persone 25 verbali per violazione della normativa anti covid una pattuglia ha operato per sei ore al giorno tutti i giorni per effettuare questi controlli e una pattuglia dalle 17 alle 19 di ogni giorno ha verificato in centro storico l'uso delle mascherine quindi non è vero che la polizia non fa i controlli fate attenzione perché osservare le disposizioni anti covid è una esigenza per evitare i contagi e poi sono stati fatti anche altri controlli controlli in altri settori attenzione alla cura degli animali due multe elevate appunto per la non osservanza del regolamento sulla cura degli animali di affezione in questo caso è l'assessore cucchiarini che segnala i provvedimenti addirittura sono state elevate 12 denunce per quanto riguarda abusi edilizio in un arco di tempo che va dal 15 dicembre a lunedì scorso 20 sanzioni sono state elevate nei confronti di chi aveva abbandonato rifiuti oppure non li aveva portati in strada in modo corretto e questo è stato fatto grazie anche alle telecamere sapete che la video sorveglianza nelle isole ecologiche è particolarmente attenta nel rilevare comportamenti scorretti ci sono stati controlli anche per quanto riguarda le cosiddette aree incolte dove la vegetazione cresce incontrollata sia in ambito urbano sia in campagna in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa quanto al settore dell'inquinamento atmosferico nelle ultime settimane è iniziata l'attività di controllo sugli impianti termici che devono essere appunto in regola con le disposizioni regionali è stata elevata una sanzione altri tre verbali sono stati fatti per la mancata pulizia della canna fumaria è un provvedimento questo che si impone perché la mancata pulizia delle canne fumarie può provocare incendi e poi sono stati compiuti controlli nel settore dell'edilizia sono stati effettuati 30 controlli successivi a esposti oppure a richieste di altri uffici sono 12 poi le denunce penali trasmesse per gli aspetti di competenza alla procura del repubblica quindi un'intensa attività non solo per quanto riguarda il rispetto delle norme del codice della strada ma a tante altre le incombenze che spettano appunto ai vigili urbani ancora sulla pagina di fano abbiamo le polemiche che seguono alla notizia appunto del grande cantiere che verrà realizzato nel porto di fano il cantiere della wider il grande impatto del cantiere abnorme nel contesto portuale lo afferma l'ex candidato sindaco teodosio auspici che ribadisce le sue perplessità dopo la presentazione appunto della società della cantieristica e a rincarare le dosi anche il gruppo consigliare del movimento 5 stelle che dice la giunta non ha offerto trasparenza l'ho fatto soltanto la wider nella conferenza stampa dell'altro giorno un episodio di cronaca beauty case sparisce con 100 mila euro un articolo a fondo pagina cinquantenne a processo per appropriazione indebita e truffa e qua abbiamo un'intervista che è stata rilasciata al corriere adriatico dall'assessore lavori pubblici e alla viabilità fabiola tonelli tonelli dice non ho intenzione di dimettermi e alla fine rendremo la città più vivibile l'assessore replica in questo modo agli attacchi anche interni portati sia dalla sua maggioranza che alla sud che dalla sua lista civica in giunta afferma c'è stima e collaborazione i progetti vengono condivisi il problema che ho dovuto affrontare dice fabio latonelli è la carenza di organico che ha reso difficile i lavori del mio assessorato mi confronto con tutti e io ci metto la faccia comunque non ha intenzione di dimettersi quindi proseguirà con i suoi disegni ma dovrebbero essere anche i disegni della giunta perché poi non è detto che venga lasciata sola per quanto riguarda questo impatto più green della viabilità un impatto più compatibile della viabilità fanese la mareggiata lambisce la nuova pista ciclabile si è verificato quanto temevano i residenti di ponte sasso questa volta è un esposto anzi è esposta islamorada beach dog l'attesa degli operatori per un'adeguata protezione la pista ciclabile è molto vicina alla spiangia e la spiangia in questo caso non è molto ampia tanto da evitare che la furia delle mareggiate non arrivino fino al suo limite e in questo caso appunto la mareggiata lambito la pista ciclabile occorre una protezione sulla valmetauro siamo a fossombrone c'è un medico da cambiare ma il telefono è impossibile una nuovo un nuovo disservizio una nuova carenza del sistema sanitario solo presentandosi al distretto di fossombrone si è riusciti a completare l'iter che cosa è accaduto è accaduto che il numero di telefono indicato nella lettera dell'asur per la scelta del medico di fossombrone risponde l'operatore dell'ospedale di pergola il quale a sua volta non sa come evadere la richiesta insomma un giro vizioso che appunto non risolve nulla e lascia l'interlocutore interdetto senza appunto soluzione dei suoi problemi a pergola il restyling della materna beci grazie ai fondi ministeriali la sindaca guidarelli annuncia anche altri interventi in programma nella città per esempio nella frazione di cartoceto si interverrà per la messa in sicurezza del dissesto stradale con un investimento di 50 mila euro ma ci sono poi anche altri interventi che vengono pubblicati su questo articolo invece a san costanzo tutto è pronto per inaugurare la piazza intestata a san pio da pietralcina gli ultimi ritocchi prevedono modifiche alla viabilità locale tant'è che la chiusura al traffico nel tratto di strada che costeggia le mura medievali di san costanzo sarà regolato con una ordinanza della polizia locale al fine di completare appunto questo allestimento con i nuovi elementi di arredo che verranno presentati alla cittadinanza sabato prossimo durante la festa del santo patrono ancora vediamo sul sul corriere adriatico sul corriere adriatico la pagina di senigallia un boato scoppia la canna fumaria moglie e marito si mettono in salvo un incidente veramente che poteva causare problemi molto molto più gravi l'esplosione si è verificata ieri pomeriggio in una villetta bifamiliare di via trento nel quartiere del portone la casa è rimasta agibile vedete qui la fotografia delle macerie che ha causato questa esplosione la casa però rimasta agibile è terminato l'intervento la famiglia ha potuto rientrare nel suo appartamento quindi per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e per quanto riguarda il covid a senigallia in quarantena sono 548 studenti 366 sono i positivi il report viene evidenziato dal distretto sanitaria a senigallia i contagiati sono 217 positivi al covid muore a 17 anni gli amici un talento del nuoto si tratta di emanuele pandeli che non ce l'ha fatta aveva una malattia polmonare le condizioni sono state aggravate appunto dal virus insomma vedete qui questo ragazzo che purtroppo non ce l'ha fatta elipsia corridoni e la scuola che frequentava questo giovane è il lutto è il giorno più triste hanno detto i ragazzi e vediamo ora le pagine di pesaro sul corriere adriatico vediamo subito la situazione in regione quattro giorni in classe nelle marche 120 positivi tra studenti e insegnanti ieri doppio tavolo di coordinamento e sicurezza per definire nuove misure anti covid a casa dieci giorni con un positivo all'asilo con due alle primarie con tre alle medie e alle superiori queste le disposizioni in caso che in un'aula ci sia uno studente positivo e vediamo in quest'altra pagina una delle altre considerazioni da parte di un virologo mai questa volta è un pediatra mai tanti bambini infettati vaccinarsi il prima possibile dice appunto il dottor giuseppe ciccione segretario della federazione italiana medici pediatri il dottor ciccione appunto dice il tracciamento è andato attenti alla sindrome miss barra c che può scatenarsi dopo il contagio da covid e noi dell'area vasta 2 siamo gli unici in regione a somministrare le dosi e ancora vediamo un quadro della situazione dei positivi a marche nord solo l'otto per cento dei positivi appunto in provincia ma il 43 per cento di tutti i degenti per covid questo è un disequilibrio uno squilibrio che evidenzia come pesaro venga penalizzata in questa tabella vediamo appunto i degenti covid nelle marche ripartiti per provincia e vedete come pesaro evidenzia 101 nelle strutture territoriali mentre tutte le altre province eccetto fermo che ne ha 50 hanno zero e ascoli poi ne ha 7 il totale è che a pesaro abbiamo 202 degenti covid mentre ancona 135 macerata 21 fermo 84 e ascoli 26 dunque pesaro è in testa ma non per la gravità della situazione della sua provincia anche perché arrivano gente da fuori per avere un esame una battaglia lunga otto mesi qui è la protesta di un cittadino fanese marco c di 63 anni che trovandosi nelle condizioni di fare un esame diagnostico per una macchia sospetta al polmone e doveva andare a fermignano a iesi insomma in diversi altri centri a fabriano scusate non a fermignano in parecchi altri centri delle marche questo non era giusto lui aveva un'attività da condurre non poteva muoversi da fano e quindi ha puntato i piedi ma ha dovuto aspettare otto mesi per fare questo esame al santa croce perché prima non gli davano una scadenza una data con cui effettuare questa attacca il drive riparte con 300 test aspettando la terza sedute i medici usca quelli che vanno a fare le vaccinazioni a casa in appartamento c'è un aumento delle persone contagiate e del carico di lavoro anche per questi medici la protezione civile all'apertura già oltre 80 auto che attendevano il turno pensate quanto prima la gente si mette in fila per aspettare il turno per la vaccinazione e poi qui abbiamo ancora un ritorno sul rompicapo sulla confusione sui problemi che incombano sull'attività didattica scuole che rompicapo docenti in quarantena con caccia al supplente non sono soltanto gli studenti un po in dad e un po in presenza a complicare il quadro i sindacati sugli organici ridotti attingere delle graduatorie non è sempre immediato abbiamo visto ieri come la dirigente del polo 3 ha dovuto supplire un'assenza di un insegnante facendo la stessa lezione ai ragazzi non è una cosa straordinaria ovviamente un preside è un professore può farlo tranquillamente ma questo dimostra come sia difficile poi sostituire un insegnante che non può venire a scuola palestre debiti per oltre 50 mila euro questa è un'altra situazione di un settore in crisi per quanto riguarda le norme anti covid ma il comune va incontro alle società accolte le proposte presentate dalle associazioni sportive con quote rateali fino a quattro anni per pagare questi debiti turismo organizzato chiude uno su tre imprese da salvare la regione ci aiuti e sono le richieste dell'incoming sostegna fondo perduto e una promozione sostenuta al cento per cento l'incoming è in crisi inside market live della soviaggi della confesercenti e 30 i tutor operatori incoming prima della pandemia un fatturato di 70 milioni di euro più 30 ogni anno ed ora invece la crisi che viene evidenziata da questa sintesi che viene così proposta al lettore in questa tabella e ora veniamo al resto del carlino il resto del carlino sulla pagina di fano vediamo subito apre apre la sua apre la sua sintesi delle notizie con eccola qua vediamo un attimo se riesco aprirla ecco con sempre il problema della sanità in questo caso si parla sempre di sanità e scuola perché perché c'è un istituto il volta che ha assunto un sistema di ventilazione che evita di fare lezioni ai ragazzi con le finestre aperte con il freddo che abbiamo anche questo è un problema un sistema di ventilazioni grazie ad un provvedimento della regione che ha investito parecchio per dotare le scuole di questi impianti che permettono il ricambio dell'aria ebbene nel volta tre sono stati installati 21 impianti di ventilazione praticamente uno per classe e questo ha impedito prima delle vacanze che ci fossero molti contagi invece dopo le vacanze la cosa sembra che non abbia funzionato a dovere e ci sono invece si è stato un aumento dei contagi il sistema è concepito per abbattere la concentrazione delle eventuali particelle infette funziona e non funziona secondo quanto dichiarato appunto dalla preside del Polo 3 Eleonora Augello. Odissea per un tampone da domani tutto si cambia in questo caso abbiamo la testimonianza di due coniugi che affetti che positivi al virus non sono riusciti a fare questo tampone per poter poi uscire dalla quarantena però oggi è possibile perché le cose cambiano uscire dall'isolamento dalla quarantena è possibile anche con un tampone antigenico negativo da fare in farmacia o in laboratorio lo ha comunicato ieri la regione nello sforzo di sollevare l'Azur dall'obbligo di somministrare a tutti tamponi molecolari di uscita prassi che stava creando code infinite e dilungamento di tempi. E poi qui abbiamo un articolo che vi invito a leggere per una grande gaffe che ha fatto l'amministrazione comunale di Fano ebbene distribuendo un modulo ai bambini delle scuole ha così posto l'alternativa maschio femmina o altro ebbene questo altro ha suscitato non dico l'ilarità ma le proteste di alcuni genitori tra cui Andrea Montalbini che è responsabile regionale di Fratelli d'Italia di valori non negoziabili che subito richiesto che cosa volesse dire altro insomma proporre ai bambini questa alternativa insomma non è soltanto indelicato ma forse è improprio veramente improprio lo afferma anche Gianluca Ilari che è il capogruppo della Lega stiamo parlando di bambini che ancora non sanno la differenza tra sesso e sessualità introdurre un argomento del genere è un'operazione fuori luogo è ideologica e il sindaco Massimo Seri ha cercato di così correre ai ripari dicendo scusate è stato un errore non volevamo certo mettere in difficoltà i bambini pagine di guerra riemergono le storie dei fanesi che militavano in città si parla di un libro pubblicato nel 1926 sulle brigate di Fanteria e nel primo conflitto mondiale svele retrosceni dell'ex caserma Paolini Movimento 5 Stelle ora Wider detta le regole ma il Comune cosa ha promesso abbiamo qui le proteste dei 5 Stelle in merito all'atteggiamento dell'amministrazione comunale sull'iter urbanistico che ha contraddistinto il cambiamento al piano regolatore del porto un nuovo inserimento nel direttivo dell'Udc si tratta di Achille Cacace e di Gabriele Vincenzi che ora insieme a Pollegioni e a Del Vecchio faranno parte appunto del vertice di questo movimento politico a Dorciano fame di dosi riapre il lab vaccinale grazie ai medici di base per tre sabati sarà possibile sottoporsi alla profilassi anti-covid a Monteschiantello invece sorge il comitato che si oppone all'ampliamento della discarica è stato creato un comitato specifico da ambiente vivo il quale per contrastare l'ampliamento della discarica appunto ha creato questo comitato perché è vigili su quello che sta accadendo e non crea i problemi un po' a tutta la frazione ma specialmente alle case che stanno vicino alla discarica ceriamo ancora la pagina e vediamo quella di Urbino consiglio sulla sanità la regione ancora taci il sindaco Gambini ha chiesto insistentemente al presidente Acquaroli di venire ad Urbino e di partecipare ad un consiglio comunale sulla sanità ma questa richiesta è rimasta ancora senza risposta e poi abbiamo un ricordo di Sassoli che aveva visitato tempo fa Urbino lo aveva fatto anche a Fano diversi centri della nostra provincia Sassoli mi diceva Urbino è fantastica Federico Scaramucci referente nel territorio per il presidente del Parlamento europeo lo ricorda insieme al Partito Democratico e poi un addio si tratta un addio a Stulzini Giuseppe Stulzini morto a 66 anni a seguito di complicazioni per il Covid le sue cronache sempre equilibrate era un giornalista le statistiche apprezzatissime era un personaggio gentile e molto generoso giriamo ancora la pagina sul resto del Carlino e vediamo che si parla in questa pagina una piena pagina molto molto estesa un articolo molto molto esteso per quanto riguarda la storia della Cassa di Risparmio di Apecchio che ha compiuto 150 anni a Dapecchio 150 anni fa si fondò una Cassa di Risparmio con la carestia il Comune presi i soldi in prestito per sfamare la popolazione un excursus effettuato da Edmondo Lucchetti appassionato storico di Serravalle di Carda che ha fatto una ricerca e ha trovato sull'argomento qualcosa di nuovo anzi di antico ancora qualche notizia per quanto riguarda Pesaro vediamo che guardia medica ormai va sempre peggio in città il servizio c'è solo a fine settimana chiusa dal lunedì al venerdì riattivata il sabato e la domenica 6 medici su 31 a disposizione praticamente questo servizio di guardia medica è stato smantellato i pazienti sono costretti ad andare altrove o a chiamare il 118 il segretario della federazione italiana dei medici di medicina generale dice poco personale ormai è una scusa la verità è che i colleghi vengono lasciati andare via presto sarà caos pure a Fano e a Urbino e questa è la premonizione un atto vandalico ai danni del cimitero di Pesaro hanno imbrattato le tombe è una un gruppo una baby gang un gruppo di vandali minorenni vernice fucsia e viola sulle lapidi muri e colonne due episodi è stata vista una coppia di ragazzini fuggire in bicicletta un altro blitz dentro gli uffici anagrafe e vediamo qui appunto le scritte tracciate sui muri delle tombe poi abbiamo una sentenza che conferma in appello quello che è stato combinato a Guido Porcellini Guido Porcellini che tre anni fa è stato condannato era il nutrizionista degli sportivi è stato condannato a un anno e sei mesi per ricettazione e importazione di sostanze proibite appunto la sentenza è stata confermata in appello con Raniero se ne va un pezzo di Montecchio la comunità sbigottita per la scomparsa a 52 anni del tabaccaio Guarandelli oggi l'autopsia Ucchielli la sua una delle famiglie storiche appunto della nostra città vediamo anche le notizie di sport le leggiamo oggi sul resto del Carlino per quanto riguarda la vis Pesaro Saccani è il tabù del gol è una questione di testa è uno dei migliori under giocatori giovani che ha però un handicap quello gli manca ancora la cegliegina sulla torta ovvero andare a segno magari con un colpo di testa questo è l'obiettivo che si è posto devo riuscirci ha detto a meno di nuovi rinvii comunque il campionato di serie C riparterà sabato 22 gennaio quando la Vispesaro al Benelli affronterà alle 14.30 il Teramo tra palloni e tamponi invece la vita si fa sempre più difficile per il fano calcio al limite del paradosso e vediamo come ieri pomeriggio al campo della Trave dove l'Alma ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa del weekend sono stati scoperti ben nove giocatori risultati positivi al Covid-19 e mister Catalano ha dovuto in mezzo al campo guidare da una parte la partita che si stava svolgendo ovvero l'allenamento e dall'altra invece il ricambio dei giocatori che uscivano dal campo perché erano positivi perché andavano a fare ogni tanto i tamponi negli spogliatoi e quindi non potevano più rientrare al limite del paradosso e questa era l'ultima notizia Massimo Faghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno al TG di Fano TV delle ore 20 e 30 credo che lo condurrà Simona Zonghetti buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.